Qualità ed efficienza al servizio del cliente La vita è inoltre tratta metodi contro l'umidità, isolamento termico ed agustico, demolizioni, taglio a pavimento e il noleggio e montaggio di impalcature di sostegno per l'edilizia, di piattaforme sospese e gru con cestello. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS